Salve a tutti, in questi giorni che sta per finire l'estate, ancora i torturatori ufficiali medici di Roma effettuano ancora gli esperimenti per la mappatura celebrale attraverso l'elettroencefalografo satellitare e utilizzano ancora il fonoencefalografo satellitare per minacciarmi in continuazione per mettermi lavaggi del cervello e frequenze del dialogo indotto a manipolazione celebrale, oltre a utilizzare in questi ultimi giorni la frequenza del sonnambulismo che mi crea la perdita della memoria in tre secondi e mi crea uno stato di incapacità di intendere e di volere attraverso il controllo della mente a distanza delle frequenze dirette all'interno del cervello che creano dei danni devastanti relativi alle manipolazioni indotte attraverso le altre tecnologie. In questi ultimi giorni io non riuscivo a capire perché queste persone stavano incominciando ad attaccare le determinate frequenze, ma guarda caso questi sperimentatori e alcune società in Italia hanno incominciato a progettare tecnologie a darmi a frequenza diretta, ma guardate che strano! E la cosa strana è che per sperimentare su cavi umane delle frequenze del genere hanno bisogno dei collaudatori e i collaudatori costerebbero tanti soldi ad essere sottoposti a torture permanenti per anni e anni o a sollecitazioni di frequenze sul corpo per anni e anni e quindi qualcuno si potrebbe inventare delle false indagini e far credere che sono in realtà dei sistemi innovativi per intercettazioni o per tracciature satellitari, ma che in realtà sono esperimenti per il controllo della mente a distanza e con l'auto su cavi umane e sperimentazioni di tecnologie per la manipolazione cerebrale con l'armi di energia diretta all'interno del cervello utilizzando un sistema di analisi a mappatura cerebrale che cambia dopo effettuata la mappatura all'interno del cervello che cambia le frequenze dei centi nervosi e le frequenze delle deduzioni cerebrali e le frequenze del desiderio per aumentare le gravi patologie fisiche e psicologiche e lasciare le persone in crisi depressiva, in dipendenza schizofrenica e in allucinazioni e persecuzione, il quale i parenti delle persone che vengono sottoposte con questi sistemi di trattamento disumano e sperimentazioni del controllamento a distanza credono o pensano che i loro figli, i loro parenti sono diventati pazzi e quindi se succede qualcosa di una disgrazia o un incidente grave diranno già una giustificazione plausibile era pazzo, era schizofrenico, diceva strane cose e allora sai è morto perché aveva tanti problemi psicologici, si è suicidato, queste cose qua. Io invece le denunce che io faccio specificano, sono tecnici che stanno all'interno dei laboratori, appartamenti fantasma, mi puntano un satellite in trigonometria che sta a nord e usano la tracciatura GPS satellitare che serve per la localizzazione in tempo reale del mio corpo che viene rivisualizzato nelle macchine dei corrotti e viene visualizzato nei laboratori dei corrotti dove devono effettuare le analisi in tempo reale attraverso scansioni scanner e rimettere le frequenze in natura riamplificate ai disturbi cerebrali che loro vogliono ricreare sul mio corpo. creando dei danni amplificati di tutte le patologie che vengono riprese sia in natura che dentro gli ospedali e rimettere tutte le patologie sul nostro corpo facendo credere che sono patologie naturali ma ho sentito perfettamente che loro effettuano questi sistemi di scansioni, ricreano la mappatura e poi rimettono nel cervello delle persone frequenze di mappature cerebrali di altre persone e le persone nel passare del tempo arrivano a una frequenza di pressione, di stabilizzazione, di manipolazione tale che viene scordinata una frequenza primaria del cervello e quindi la frequenza una volta scordinata le persone cascano in depressione, dipendenza, gravi patologie, allucinazioni audiovisive e perseguizioni in continuazione, schizofrenia eccetera 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 perdita della memoria temporanea e perdita della memoria totale e gravi perdita della resistenza fisiologica perché ovviamente rallentano il respiro e creano una sorta di blocco cardiaco ovviamente sono tutte frequenze, tutti i sistemi che creano la simulazione della patologia se ci volevano ammazzare con le altre tecnologie da moca eravamo morti perché ci avrebbero bloccato il cuore in un secondo e ci avrebbero bloccato i polmoni in un secondo e ci avrebbero creato dei gravi blocchi respiratori nella gola che non avremmo avuto il tempo di andare all'ospedale o di avvisare persone per venirci a salvare che già saremmo morti oppure ci bloccherebbero il cervello e gli occhi mentre stiamo in macchina o bloccherebbero il cervello e gli occhi a qualcuno che cammina sulle strade e sull'autostradia e ci verrebbero addosso scacciandoci e tanto altro allora questa tecnologia come funziona? praticamente usano delle frequenze satellitari chiamate banda S e altri tipi di frequenze che vengono utilizzate attraverso la scansione dei radar a cui vengono dotate le opere delle bande specifiche a una copertura in azimut o a una copertura in gradi attraverso il singolo impulso del radar a scansione diretta satellitare il radar scansione diretta satellitare che cosa fa? effetto attraverso una scansione georatara o attraverso una scansione del perimetrale che deve essere scansionato attraverso le frequenze di localizzazione e di sovrapposizione del campo indotto in poche parole il sistema dell'alta tecnologia funziona come se si crea un gioco viene effettuata una scansione planimetrica del luogo che deve essere scansionato e poi vengono effettuate le rilevazioni dei punti di calore attraverso telecamere termiche o attraverso sensori a scansione termici vengono effettuati delle scansioni a telecamere che rilevano i campi elettromagnetici e che rilevano le risonanze magnetiche di patologie geonaturali poi rilevano le scansioni delle frequenze del sole le frequenze del campo elettromagnetico indotto e le frequenze del campo elettromagnetico amplificato e rilevano tutte le frequenze di luce perché le amplificazioni dirette relative al satellite al collegamento di amplificazione sui punti di luce fanno sì che possono irradiare un'amplificazione diretta come un funzionamento classico della fibra ottica o di un laser che riamplifica il segnale e usa un sistema di trasponder per riamplificare il segnale a distanze molto elevate diciamo che è una sorta di microfono laser puntato dal satellite all'interno del nostro cervello e che invece di sentire il suono viene il suono immesso nel nostro cervello ovviamente la scansione della frequenza di luce non può essere vista ad occhio nudo ma potrebbe essere vista con telecamere ad alta risoluzione che scansiona i parametri a spettro luminoso o i parametri a spettro di frequenza fisiologica le famigerate frequenze che sono corporee e estracorporee nel senso la frequenza dell'energia corporea la frequenza dell'energia fisiologica che viene emanata dal corpo ma al momento della morte questa energia scompare e io avevo sempre dubitato che il corpo umano aveva a contatto di queste patologie, di queste frequenze, di queste radiazioni una frequenza ionizzata una frequenza ionizzante sul corpo in sovrapposizione come se loro creano a questo collegamento cerebrale attraverso il sistema satellitare la seconda anima artificiale un'anima che viene immessa all'interno del corpo come una radiazione di destabilizzazione delle frequenze fisiologiche che creano patologie gravissime una delle patologie molto gravi è la dipendenza o il desiderio la schizofrenia la persecuzione e le allucinazioni audiovisive e le sensazioni che tutte le persone che ci circondano sono colpevoli di questo trattamento disumano e di questa sperimentazione che viene effettuata sul corpo attraverso la triconometria del puntamento satellitare il quale usa un tracciatore il tracciatore va a 300 km al secondo il tracciatore serve per puntare il nostro cervello durante la notte e far sì che la localizzazione dei tre satelliti spia puntino attraverso un anello di energia sul nostro corpo il puntatore punta nel cervello dove i tre satelliti GPS devono localizzare la persona e i tre satelliti coordinano in un punto cardinale il tracciatore che segue permanentemente i tre satelliti in modo che c'è una triconometria satellitare che segue il tracciatore e il tracciatore segue la triconometria satellitare così hanno sempre la scansione del punto di localizzazione fisiologico e ci possono tenere in terapia intensiva ogni volta che loro vogliono attraverso le manipolazioni indotte delle frequenze cerebrali attraverso la tracciatura del punto di localizzazione che viene vista sui GPS delle macchine dei corrotti e nelle macchine delle spie e sia all'interno dei laboratori dove devono scansionare le nostre frequenze fisiologiche è come se il nostro corpo il nostro cervello sta in terapia intensiva in mappatura di elettro encefalografo digitale a scansione diretta il quale mappano tutte le frequenze e le parti del corpo e poi rimettono queste frequenze rimettono le parole rimettono i dialoghi rimettono i disturbi per ricreare la patologia che loro vogliono ricreare in questi laboratori avevano detto che avevano 200 frequenze con 200 patologie su ogni impostazione e che dovevano ricreare praticamente le patologie più semplici a partire dal raffreddore a partire dal caldo a partire dal freddo stati febbrili stati di dolore sui muscoli stati di perdita della vista stati di appannamento stati di allucinazione dolori all'interno dei condotti uditivi dolori nei denti dolori polmonali dolori cardiaci dolori intercostali eccetera eccetera questa scansione di questo sistema che è un secondo sistema bellico che può ricreare attraverso un'arma che utilizza sia le frequenze Tesla che sia il sistema HAARP la tecnologia primaria è ricreare una scansione di un determinato luogo e vi faccio un esempio se io punto il satellite in Africa e faccio una scansione in tempo reale di tutte le frequenze relative in un'area ben prestabilita e chiamiamola aria cubica e scansiono tutti i tipi di frequenze tutti i tipi di alterazione di luce tutti i tipi di alterazione raggi gamma ultravioletti infrarossi microonde eccetera 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 che cosa ricreo? una sorta di temperatura o una sorta di geostabilizzazione a scansione digitale riprendo questa geoscansione digitale e la rimetto sull'Italia o la rimetto su un appartamento tutte le frequenze che vengono scansionate li vengono ricreate dal sistema che rimette il caldo il surriscaldamento l'umidità le frequenze a pressione all'interno del nostro appartamento e questo si chiama scansione a perimetrale con tecnologia ARP a frequenze di luce a sistema Tesla arrivederci a tutti del nostro appartamento Skyrim e il niente il suo appartamento è un appartamento che sia attraggio alla fine a fare la fine altra è un appartamento uguale in luce in yn Grazie a tutti